Total Look Ulivari Ciao a tutti, ben ritrovati nel nuovo video Allora, oggi sono qui per riparlarvi del brand Ulivari Ulivari mi ha contattato nuovamente e io ero veramente felicissima perché il video del kimono è andato alla grande Allora, Ulivari ha un sito internet è un brand che fa capi in un altissimo poliestere ma presenta anche all'interno della loro capsule dei prodotti di seta al 100% ha anche accessori molto carini e si occupa principalmente di kimoni scusate, mi è andato qualcosa nell'occhio di kimoni, pigiami veramente strabellianti mi ha contattato e mi ha fatto scegliere un Total Look un Total Look che io a questa occasione non me la faccio scappare e ho acquistato, acquistato, mi hanno inviato mi hanno inviato un pigiama completo e un paio di ciabattine in più il brand anche mi ha omaggiato di regali che comunque vi faccio vedere avevo una vasta scelta di prodotti io adesso vi faccio vedere qua di fianco appunto lo spacchettamento di tutto ma voglio portarvi l'attenzione su il Total Look che ho scelto allora io adesso ve li faccio vedere così ma poi alla fine del video li vedrete comunque indossati allora il pigiama che ho scelto è in 95% poliestere e 5% spandex è ancora più morbido del kimono è veramente morbidissimo io ho scelto questa fantasia ok, che è meravigliosa, delicata con i colori che sono in mia palette ed è meraviglioso io il pigiama l'ho preso in taglia L il pantalone ha l'elastico e la rifinitura sotto è fatta molto bene questo è il pantalone abbinato poi a questa canotta sempre presa in taglia L fatta così rosa rosa cipria attenzione questi pezzi che io vi mostro a mio avviso possono essere indossati tranne il pantalone anche in maniera separata questa come sottogiacca come canotta per andare in discoteca con un bel tacco alto e un paio di jeans sono meravigliose sono meravigliose e anche queste sono una nuvola dietro tra l'altro hanno anche il il laccetto regolabile il kimono che è abbinato sotto questo sopra a questo pigiama è un kimono anch'esso meraviglioso sempre dello stesso materiale e della stessa e della stessa fantasia ma ha un particolare che è sulla manica che è questo che adesso vi faccio vedere anche il kimono secondo me d'estate con la canotta con un paio di jeans è meraviglioso meraviglioso il dettaglio sulla manica è questo piumaggio meraviglioso che ha ok è proprio sulla manica è molto kitsch se vogliamo ma insomma volevo prendere anche qualcosa insomma che non si vede abitudinariamente in giro perché se no ragazzi siamo tutti uguali e arrivederci a me piaceva molto comunque e questo è un kimono non è lungo come l'altro ha la cintura è rifinito anch'esso molto bene come l'altro quindi vedete tutte le cuciture sono perfette non c'è un filo tirato e questo è un kimono che arriva a livello della del del ginocchio un po' sotto il ginocchio insomma non è lungo come quell'altro e per fare un abbinamento ancora più kitsch mi hanno fatto ho scelto delle bellissime sciabattine con anche questo e lo sfru sfru 36 37 perché lì le taglie vanno 36 37 mi pare 37 38 oppure 38 39 ma comunque mi stanno perfette sono leggermente un po' più lunghe perché io porto proprio il 36 e queste sono le sciabattine che appunto riprendono la manica sono meravigliose questo poi questo completo qua lo porterò in viaggio quando partirò ad aprile perché veramente veramente devo fare delle foto stratosferiche io sotto vi lascio appunto tutti i tutti i close up nel senso le aperture dei pacchi perché voglio farvi anche rendere conto di come arriva il pacco di come è sigillato e quant'altro beh la dust bag delle delle ciabatte ce le ho qua ed è meravigliosa questa è la dust bag con scritto travel dentro ci sono le ciabattine e le ciabattine anche sono state rinforzate da per mantenere la forma quindi non c'è proprio nulla da dire di questo di questo brand se ho ancora il codice i riferimenti all'azienda io vi lascio tutto 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 nell'info box andate a vedere perché anche fare un regalo a Natale adesso insomma siamo ad ottobre a Natale è qua dietro l'angolo è molto 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 carino molto molto carino ci sono delle cose veramente asfiziose oltre a questo che avevamo pattuito e quindi ho scelto sono stati così gentili di inviarmi dei regali e uno di questi ve lo faccio vedere in una foto che vi allego è un portafedere 100% seta color ottanio io l'ho messa sopra alla mia che comunque è un simil seta che già adoperavo che è un completo della Ravlore però sopra perché ha i lacci che si girano è veramente comoda ed è veramente molto molto carina in più mi hanno inviato una specie di borsellino cinese che comunque vi lascio comunque le immagini anche qua sotto che è un profumatore per cassetti sostanzialmente dove voi mettete dentro mi hanno messo dentro anche si chiamano tipo la lavanda no quel come si dice frammenti di essiccati profumati dove praticamente vanno all'interno dei cassetti guardate veramente io sono rimasta veramente allibita allibita e molto contenta vabbè adesso basta ho parlato sette minuti del brand vi voglio lasciare il mio look così così vi rendete conto dal vivo quanta tanta roba è se il video ti è piaciuto metti un like iscriviti alla campanella per non perdere i miei video e siete voi ferto i ciecole alla mattina presto le parla di Daphne ciao grazie olibari grazie a tutti grazie a tutti